ne abbiamo viste lette ascoltate sentite rimirate da qualsiasi punto di vista i morti escono da fuori il terreno e parlano di one piece opinion maker che fino all'altro giorno non sapevano nemmeno che one piece fosse stato scritto da eciro oda e si sentono in diritto di raccontare il loro punto di vista sul 1044 di one piece ma questo è bello di one piece diciamoci la verità vedere tanto hype vedere tanto rumore per nulla forse forse per nulla e vi ricordo che questa sera le 21 io e il re siamo sul mio canale twitch per discutere insieme di tutto quello che abbiamo visto letto osservato incazzato nel capitolo 1044 però io oggi in questo piccolo breve video vorrei raccontarvi sul serio quello che non piace a me personalmente del capitolo 1044 a distanza di tre giorni ora che i bollori sono un pochino scesi ora che soprattutto io quantomeno ho letto non solo tutte le versioni ufficiali della traduzione di one piece del 1044 ma mi sono fatto aiutare anche da persone che chiaramente hanno letto capiscono comprendono il giapponese più e meglio di me io non lo so e saluto anche a Gualtiero che come al solito si è prestato ecco ieri sera ma veramente a tarda notte era talmente infoniato che ha fatto anche lui la traduzione tra le altre cose ringrazio anche come al solito il re il mala per l'aiuto perché mi fanno sempre leggere le cose che studiano loro e io adesso vi racconto vi racconto una storia in questi giorni si è sentito tantissimo parlare di retcon si è sentito tantissimo sparlare forse anche a sproposito del fatto che oddio one piece è diventato il solito fumetto oddio la solita lasciano ingiampata del predestinato oddio no che schifo abbiamo distrutto naruto per molto meno un momento calma un momento ragioniamo sul serio perché tutti coloro che in questi tre giorni hanno lanciato astrali nei confronti del manga 10 roda dicendo che one piece è diventato il solito fumetto che parla di predestinazione non lo hanno mai letto noi sappiamo che one piece è il suo protagonista quindi rufi dal cappello di paglia sia un predestinato da cos'è il volume 9 10 11 sappiamo che a differenza ecco di tanti altri manga che obiettivamente ed effettivamente hanno avuto un calo drastico nella loro parte finale mostrando letteralmente da nulla determinate cose e soprattutto la predestinazione predestinazione dei personaggi in one piece la predestinazione il destino non solo c'è è pregnante non solo ci sono e ci sono sempre stati la sciurma di barba nera su tutti i personaggi che parlano del destino come un'entità che esiste e che è all'interno del mondo di one piece noi sappiamo che rufi già solo per avere quella d che lo identifica come uno del clan della d equivale a dire lui fa parte per forza è un agente del destino agente del destino il cappello di paglia saprà ecco è una cosa del genere quindi già solo come dire incazzarsi perché rufi un predestinato fa ridere nel momento in cui è apparso joy boy nel momento in cui la storia ci ha messo di fronte a quel poneglyph a quella lettera di scuse dove si parlava di joy boy e si subdorava che chiaramente qualcosa non solo potesse essere successo 800 anni fa ma che rufi avesse o dovesse avere a che fare con joy boy con il joy boy che è nica che è rufi che è la stessa cosa quindi quello è una cosa che tutti quanti noi ma sul serio andatevi a riguardare i video di un anno fa non appena è uscito a fuori la faccenda di nica dio del sole non solo io ma tutto il mondo dio nica e joy boy quindi joy boy e rufi quindi nica e rufi non c'erano cazzi il mio amico lorenzo proprio stamattina mi ha scritto una cosa divertente ovvero che il nome di indovina chi di husu non si riferiva al personaggio indovina chi ma si riferiva indovina chi è nica perché lui colui che ci mostra per la prima volta l'esistenza di questa divinità solare che libera gli schiavi e va in giro con il sorriso quindi indovina chi non indovina chi lui indovina chi è nica e rufi chiaramente e saluto anche il mio amico renzo però ecco tenendo conto di tutto quello che c'è in questo capitolo 1044 io ho storto il naso vedendo le traduzioni leggendolo dal giapponese su un aspetto fondamentale che non ha a che fare col frutto in sé o con le caratteristiche del frutto in sé e anche cui vorrei che voi vi focalizzaste di nuovo non su su mobuta che dice cose e dà la sua opinione ma su quello che dice il fumetto il frutto zozo ito ito modello leggendario nica sembra una macchina giapponese di alto livello è solamente l'altro nome con cui viene identificato effettivamente il gom gom così come il gom gom è solo l'altro nome con cui il frutto nica è stato nascosto qual è la proprietà del frutto nica è quello di rendere una persona di gomma le persone che anche qui perché io poi ogni tanto leggo cosa scrive la gente davvero c'è gente che legge o non capisce oppure non ha mai letto one piece cominciava a dire oddio ma adesso ma che schifo ma quindi rufi adesso deve fare i colpi nica nica no pistol queste cose anche io ho fatto la battuta chiaramente però il punto è che rufi è un uomo di gomma è sempre stato un uomo di gomma non cambia il fatto che lui rimanga un uomo di gomma e dal suo punto di vista non gli frega nulla né di essere joy boy né di essere nica lui è rimane rufi dal cappello di paglia e continuerà a fare le sue solite stronzate tant'è vero che il risveglio che lo trasforma e noi come lettori lo sappiamo perché tutto il pippotto dei cinque estri di saggezza è un qualcosa che serve a noi lettori per contestualizzare al meglio la macro mitologia del mondo di one piece ma rufi come personaggio non cambia assolutamente nulla perché lui era un deficiente combatteva da sempre come un deficiente perché io vi ricordo andatevelo a leggere one piece il gom gom acqua contro crocodile il gom gom bo contro enner rufi che si gira di spalle contro enner e picchi al muro così che i colpi di rimbalzo non siano prevedibili e il pallone d'ossa è una delle cose più assurdamente stupide di rufi il gom gom ufo rufi è sempre stato deficiente e infatti la dista per deficiente lo dicevo anche nel video dell'altra volta quindi per rufi non cambia assolutamente nulla anzi quando anche alla fine di wano kuni zunesha o momonosuke o chi per lui cominciasse a fargli pippone no ma te se la rincarante sei hai ereditato lavoro la volontà di joy boys e sei mangiato il frutto di nika rufi si addormenta sicuro come la morte non gli frega assolutamente nulla quindi da questo punto di vista cambia poco e non cambia nulla è solo un'aggiunta in più ma quello che stride è la giustificazione perché se ancora da lettori almeno io da lettore posso accettare che fondamentalmente il gom gom ha un altro nome ed è un frutto leggendario posso accettare che per esempio se lo accetto all'interno del signore degli anelli che l'anello di sauron ha una sua volontà e quindi sfugge letteralmente al suo padrone quando al suo padrone occasionale per ricongiungersi ecco no con sauron perché l'anello l'unico anello quello vuole fare sfrutta le persone per ritornare a sauron perché è impregnato dell'essenza di sauron quindi se il fumetto a un certo punto mi dice guarda che determinati frutti hanno una propria volontà e questo frutto sfugge dalle mani il frutto in sé sfugge dalle mani del governo perché è una sua volontà non vuole andare dal governo per 800 anni io sono anche portato a credergli il punto della questione è questo che è stiracchiato e non è l'esa maestà dirla questa cosa perché fa ridere che quella che è la più grande istituzione mondiale non sia riuscita non solo a mettere le mani su un frutto che gli scappa e questo lo possiamo ancora concedere ma nel momento in cui vedono che è arrivato un pirata che dal nulla comincia a fare disastri uno dopo l'altro e guarda caso questo pirata ha le proprietà della gomma per scrupolo anche senza sapere se ha mangiato o non ha mangiato il gom gom se ha mangiato o non ha mangiato il frutto nikano gli invia miliardi di persone fino a quando non gli mettono le mani sopra una delle critiche ancora una volta che l'ho letto ma poi la cosa divertente che il manga le volte te le dà certe risposte dice ma se lo ammazzavano non risolvevano il problema diciamo che non è vero perché se lo ammazzavano gli mettebbe una mela vicino noi sappiamo che il potere del frutto del diavolo si trasla nel frutto più vicino lo vediamo con shinokuni questo finora ci dice il manga e quindi quello diventava gom gom avevano risolto il problema i cinque astri di saggezza e se per 40 anni braccano perché la braccano nico robin si vede che braccano nico robin tutti i giorni fino a che lei non si rompe i coglioni e non se ne scappa e non scompare dal mondo se i governativi braccano nico robin da quando lei è scappata da oara fa sul serio abbastanza ridere che l'istituzione vedendo che c'è un omino di gomma non gli abbia mandato contro persone fino a quando non non fino all'arresto questo per me è davvero la stiracchiatura che ti fa comprendere che tutta la questione riguardante il frutto nica sia uscita solo ultimamente e di nuovo non è un problema dirlo quando si legge un fumetto così lungo non è una giustificazione ma bisogna tenere alle volte in conto delle cazzate che gioco forza non ci piacciono tra le tante cose che si sono viste in one piece arrivo anche a dire che questa non è neanche la più brutta o non è neanche la peggiore per me la cosa veramente più inconcepibile che mi fa saltare qualsiasi sospensione dell'incredulità rimane la mamma di ace con ace in pancia 20 mesi quella veramente ma altro che la stiracchiatura sul gom gomma nica pur frutto nica rouge che si tiene quella 20 20 mesi in pancia dici vabbè sfida qualsiasi tipo di logica interna ed esterna non solo al fumetto il mondo ma di qualsiasi cosa non c'è proprio senso così come questo ancora un senso può avercelo per quanto veramente veramente cioè devi proprio passarci sopra ma se siamo passati sopra kinemon che parla col culo e viene diviso in due dopo essere morto che è una delle veramente peggiori trashate di tutto one piece è terribile è veramente terribile pelle che esplode non esplode e la gente ne parla ancora oggi e tante brutture di cui ne abbiamo parlato anche l'altra volta i poneglyph i poneglyph che vengono lasciati in mezzo lì in mezzo al mondo l'importante è non leggerli basta che non imparate l'alfabeto poi siamo a posto se ci pensate fa ridere ma fa ridere so cazzate sono cose proprio ignobili uno riesce a passare soprattutto perché la cosa peggiore per me che vuole giustificare questa paura del risveglio perché i cinque astri di saggezza sono interessati al frutto non al possessore e sono interessati al possessore quando anche lui possa riuscire a risvegliare questo potere il problema diventa quello perché quando il governo mondiale vuole agire e impone a bruno pizzu guarda non ce ne frega un cazzo questo è un ordine che noi emaniamo una volta su cento quindi vedi come devi farlo devi andare ad uccidere e il povero bruno pizzu va e rufi muore quindi se loro volevano rufi lo potevano uccidere in qualsiasi momento teoricamente il fatto che lui si sia trovato contro di tanto in tanto smoker e poi haokiji e poi il nonno è comunque sin e nessuno lo abbia mai catturato per via di tante problematiche con lo stesso kuma per via di tante e se significa sciatteria significa che chiaramente la trama voleva che in quel momento rufi non venisse catturato ma da un punto di vista logico e da un punto di vista narrativo la spiegazione la spiegazione dei cinque astri di saggezza che dicono no ma il frutto che c'è una sua volontà e se ne scappa e quindi metti diciamo le mani avanti dicendo no no però ci sono 800 anni che ci proviamo ma non ci riusciamo è veramente molto tirata molto molto tirata molto tirata per i capelli ed è la cosa ecco l'unica l'unica cosa l'unica cosa che non mi piace di questo 1044 e quest'unica cosa in realtà può essere anche tranquillamente messa a posto nei capitoli o negli anni successivi perché basterebbe anche dire perché tenendo conto sempre dalle traduzioni del giapponese loro sanno che il gom gom è il frutto nika e il nika è il frutto gom gom e tenendo conto di tutto il dialogo spezzettato che inizia dal momento in cui poi noi vediamo anche zunesha che è un dialogo unico è un qualcosa di cui loro avevano coscienza l'unica l'unica cosa ma sul serio che potrebbe un attimo cambiare le carte in tavola e quindi noi possiamo dare come dire il beneficio del dubbio al maestro che comunque da questo punto di vista di solito non ha quasi mai sbagliato mai è dire evidentemente c'è stato un qualcosa che gli ha fatto fare due più due il gom gom è il frutto nika perché nonostante tutto il punto è che se loro sono i cinque asti di saggezza teoricamente dovevano saperlo anche da prima e quindi il momento in cui tu vedi perché loro parlano di 800 anni quindi sono 800 anni che il governo mondiale sa dell'esistenza di questo frutto che il cui nome vero è stato cancellato dalla storia proprio per fare in modo che la gente rompesse i coglioni e quindi vedete ritorniamo al punto di partenza se sapevano vedi un uomo di gomma che fanno gli mandi la gente contro finché non te lo prendi però potremmo anche trovare qualche scamotage per fare in modo che anche questo problema questa piccola problematica possa magari avere una topa nella speranza di vedere il prima possibile prima possibile vegapunk nonostante questo nonostante ecco questo momento diciamo così di defiance piccolo di che è grande ma è piccolo di one piece il capitolo 1044 è un grandissimo capitolo è divertentissimo sono contento nonostante tutto che abbia spaccato in due la community perché anche magari da queste cose poi si vede se uno one piece lo legge oppure no alla fine parliamo di cazzate teniamoci e pensiamo sempre che sono cazzate quelle di cui parliamo noi tutti i giorni sono cazzate che servono per farci divertire e quindi vi lascio in questo ennesimo lunghissimo video con un invito divertitevi sì parlatene anche con gli amici discutetene con gli amici ma tenete sempre conto che si tratta di un fumetto prima chi se ne frega far ridere alle volte ma credetemi far ridere io non leggerò mai più one piece perdonatemi noi abbiamo letto certe cagate fino alla fine e lo abbiamo fatto perché quelle cagate nonostante tutto erano divertenti quindi non vedo perché se abbiamo letto nel corso degli anni negli anni tante cagate non possiamo anche continuare a leggere un fumetto che comunque di cagate perché va detto ne ha fatte 100 anche peggiori di quelle che abbiamo visto nel 1044 che comunque è divertentissimo rufi in versione gear fifth è una cosa ma veramente meraviglioso è la trasformazione più bella di rufi e io spero di vedere una cosa perché poi ne parlavo anche con con altri amici con l'amico alessandro ne parlavo anche con tanta altra gente sarebbe veramente bello a questo punto dato che il 1044 ha rotto la barriera della quarta parete no perché davvero diventa anche una sorta di meta narrazione per noi perché lo dicevo anche nel video joy boy ha portato la risata nel mondo di one piece ma l'ha portata anche da noi ma veramente e visto che il suo è il potere più potente e ridicolo di tutti a me piacerebbe davvero tantissimo vedere anche una scena dove rufi davvero letteralmente rompe rompe i limiti della vignetta rompe i limiti della closure dello spazio bianco tra una vignetta e l'altra e picchia kaido tra una vignetta e l'altra ma se facesse una cosa del genere sarebbe un capolavoro assurdo ma sono curioso sono curioso questa era la mia unica unica perplessità ecco di questo capitolo 1044 ora che ci siamo un attimo raffreddati tutti ora che abbiamo avuto tempo ecco di ragionare fatemi sapere voi che cosa ne pensate fatemi sapere cosa non vi è piaciuto cosa vi è piaciuto per bene di questo capitolo qui sotto nei commenti io vi ricordo che questa sera le 21 siamo su twitch il re e io per discutere insieme a tutti voi proprio anche di queste problematiche soprattutto perché io gabriele abbiamo due visioni finalmente opposte finalmente opposte e se siete arrivati alla fine di questo video scrivetemi qua sotto one piece a un sacco di cazzate ma questa di più alla prossima ciao 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 ciao